Le pari opportunità nel mondo della politica, del lavoro e del sociale. Focus questa mattina nella sala consigliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco. Un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale su proposta della consigliera con delega alle pari opportunità Iolanda Mennella per sensibilizzare ed informare sulla parità di diritti, in riferimento ad argomenti e tematiche oggi di particolare interesse. Ad interloquire con gli alunni e le dirigenti dell'Istituto Comprensivo De Nicola Sasso e dell'Istituto Superiore Francesco Degni sono stati autorevoli relatori, dal mondo della politica a quello del lavoro e dell'associazionismo. Tutte realtà che vivono in prima linea la lotta per la difesa dei diritti di genere. Ho trovato stamattina i ragazzi dell'Istituto Comprensivo De Nicola Sasso e quelli dell'Istituto Superiore Degni molto pronti e soprattutto desiderosi di conoscere sempre più da vicino le tematiche che riguardano le politiche di genere, le pari opportunità e soprattutto il rispetto e la dignità nei confronti della donna. Evidentemente sono molto stimolati dai loro insegnanti e anche i progetti ai quali sono stati chiamati attraverso l'amministrazione comunale e l'associazione Beta che riguardano appunto il superamento degli stereotipi, hanno costruito insomma delle azioni con degli elaborati che ci hanno dato la cifra di quanto siano stati pronti a ricevere tutti gli strumenti utili per diventare maggiormente consapevoli della importanza di una società all'insegna delle pari opportunità. E' sulle giovani generazioni che noi dobbiamo continuare ad insistere come istituzioni ad ogni livello perché lavorando con loro e per loro noi possiamo costruire condizioni per il domani di una società che sia veramente pari. Nonostante tutto abbiamo dovuto come Consiglio regionale qualche mese fa, io ne sono stata firmataria, a proporre una legge per la parità salariale, l'incentivazione all'occupazione e all'imprenditoria femminile, segno di quanta disparità ancora esista soprattutto nel mondo del lavoro tra donne e uomini. Abbiamo un'opportunità importante, il piano nazionale di ripresa e resilienza, fondi cospicui che arriveranno dall'Unione Europea che giungeranno nel nostro Paese, nella nostra regione e anche nella città di Torre del Greco. Il dovere delle istituzioni è quello di spendere bene questi fondi e di spenderli tutti e di impiegarli soprattutto nella realizzazione e nel miglioramento di quelle infrastrutture sociali che sono necessarie per dare una mano alle donne e dunque alle famiglie, alla maggiore e migliore ricerca di un impiego, al mantenimento del proprio posto di lavoro, alla possibilità di un avanzamento di carriera perché hanno il diritto di realizzarsi, di poter coniugare bene i propri tempi di vita, i propri tempi di lavoro e il piano nazionale di ripresa e resilienza introduce un elemento innovativo molto importante in questa direzione che non è soltanto più quello della conciliazione ma è quello della condivisione dei ruoli. Stamattina iniziativa importante promossa dalla consigliera Yolanda Mennella sulle pari opportunità. abbiamo avuto nel lavoro consigliare, ringrazio le due scuole che hanno partecipato, il Degni e la Sasso con i loro studenti, gli insegnanti e i presidi per tutto quello che è la problematica delle donne per quanto riguarda la pari dignità nel lavoro, in quello che è il ruolo che è stato da anni ha avuto delle problematiche, ecco questa dispiaterità uomo-donna. Un convegno che ha visto la presenza di Lella Fuoco, di Giuliano Esposito, di Angelo Bica e organizzata dalla consigliera delegata alle pari opportunità Yolanda Mennella. Una giornata importante nella propria consigliare con i ragazzi che hanno fatto tante domande e con la vicepresidente del Consiglio regionale sono state date delle risposte sia in termini di leggi, di future leggi e sia in tutto quello che praticamente sia l'amministrazione comunale che quella regionale possono portare avanti nei prossimi mesi. Stamattina ospiti di Palazzo Baronale sono stati l'istituto comprensivo di Nicola Sasso e l'istituto superiore degni. In effetti i giovani oggi sono il nostro futuro, quindi cerchiamo di convolgerli in queste iniziative. I relatori, ai quali ringrazio, hanno dato spunti. È stato un momento di confronto tra i ragazzi. Ringrazio vivamente la consigliera regionale Loredana Raia, lo stesso sindaco che comunque insieme all'assessore Gaglione si muove con me in queste iniziative proprio dove la tematica principale è la parità di genere. E poi altri relatori come l'associazione Rella Fuoco, la presidente beta Giuliana Esposito, l'avvocato Cardella, è stato presente anche Vittoria Strazzuli per l'associazione. Insomma abbiamo avuto dei grandi relatori che comunque hanno cercato di interagire in sinergia con i ragazzi. Oggi il tema principale è la parità di genere, proprio perché vogliamo entrare nelle scuole e cercare di evitare, quasi annullare quello che è il divario di genere tra uomo e donna nel mondo del lavoro. Si è parlato tanto la donna nel mondo del lavoro, nell'economia, nella politica, come interagisce e quali saranno nel futuro le sue condizioni. Come si fa a superare gli stereotipi? La prima cosa è che dobbiamo cercare di allontanare tutti quei fattori che direttamente o indirettamente cercano di ostacolare la vita delle donne. Sono quei pregiudizi, quei preconcetti che dovrebbero essere innanzitutto distrutturati da subito e poi nuovamente ristrutturati con delle modalità di azioni diverse. Quindi pensare alla donna come una forza, pensare alla donna come nella sua diversità un momento positivo nel mondo del lavoro. E poi dobbiamo dire che dare accesso alle donne, alle ragazze, nell'istruzione, nel mondo del lavoro è un modo in più per poter fare sì che si promuova un'economia sostenibile proprio a vantaggio di quelle società e dell'intera umanità. In verità la donna ha fatto un passo avanti, ma è ancora piccolo. Infatti dobbiamo dire che nonostante la donna sia entrata nel mondo del lavoro in maniera attiva comunque c'è ancora una disparità di genere e quindi bisogna sempre più lottare per fare in modo che le donne possano avere parità diritti come quelle degli uomini. Il convegno di oggi si inserisce nell'ambito di un percorso già avviato. A scuola è un percorso che continuerà? Sì, abbiamo ospitato i giovani proprio perché nelle scuole, nei due istituti che prima ho nominato è stato attuato un progetto, un progetto che riguarda proprio la donna nel mondo del lavoro. Stamattina i ragazzi hanno interagito con le istituzioni, hanno fatto tante domande, si sono posti dei quisiti e anche loro hanno cercato di dare un'idea chiara di quello che pensano oggi nella cultura proprio della donna nel mondo del lavoro. Entreremo quanto prima possibile adesso nelle scuole del territorio, negli istituti della scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado in modo tale che i ragazzi che hanno prodotto del materiale in questo progetto che è stato fatto in questi due mesi potranno poi sensibilizzare loro stessi i ragazzi degli altri istituti.